Assange attacca la CIA, responsabile di aver perso il controllo di tutto il suo arsenale di armi informatiche in un devastante atto di incompetenza. La talpa di Wikileaks ha deciso di condividere con le aziende produttrici di tecnologia come Apple e Google gli strumenti usati dalla CIA per gli hackeraggi in modo che possano difendersi. Abbiamo deciso di lavorare con queste aziende per offrire loro l'accesso esclusivo ad alcuni dettagli tecnici di cui siamo entrati in possesso per permettergli di sviluppare soluzioni per correggere le falle in modo da rendere le persone sicure. L'organizzazione di Assange potrebbe essere in possesso di migliaia di altri documenti. La fuga di notizie è stata condannata dalla Casa Bianca. Trump promette la linea dura. Su questo non bisogna fare errori. Chiunque faccia trapelare informazioni classificate deve rispondere davanti alla legge. Perseguiremo le persone che divulgano informazioni riservate. Non si gioca con la sicurezza nazionale. È una cosa che non sarà presa alla leggera da questa amministrazione. Secondo Wikileaks, la CIA ha sviluppato oltre un migliaio di programmi in grado di controllare dispositivi elettronici come smartphone o televisori per spiare gli utenti. La CIA ha fatto sapere che non ha alcun diritto di condurre operazioni di sorveglianza negli Stati Uniti né contro gli americani e di fatto non lo fa.